la moda per le ferie. I figurini prima di disegnarli si scolpiscono. Ad anticipare le sagome delle bagnanti abbiamo qui Miss Italia e una svedese. Un gonnellino puramente simbolico, sconsigliato nei giorni di vento. Una gonna che affida al vento un volo di cervi volanti. Non contenta di un giardino di stoffa questa morde un fiore dal vero. Non più la gonna è mobile, anche i pantaloni lo diventano. Cappello a cono, scollatura a giochi di prestigio. Anche con i capelli corti rimane il problema di pettinarsi. Più comodo così, con le trecce già fatte. Per le assaltatrici di cuori il pan di zucchero alla brigantessa. A completare l'effetto di questa maggiostrina, occhi a mandorla. Ghiotta maggiostrina mangia le mandorle.